Pace e bene Ho scelto per darvi il saluto dei gruppi di preghiera e in qualche modo per accompagnare la vostra preghiera un brano abbastanza conosciuto quello in cui Gesù si rivolge agli Apostoli e dice non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi mando perché portiate frutto e perché il frutto rimanga per sempre in voi La cosa che più stupisce quando si parla di Padre Pio è che nella maggior parte dei casi i fedeli lo incontrano così senza motivi eccezionali un viaggio con gli amici a San Giovanni Rotondo oppure una sofferenza per cui si cerca una grazia una grazia da tanti santi e soprattutto da Padre Pio oppure anche un momento di ricerca spirituale in cui non si sa dove andare A diverse figlie spirituali Padre Pio diceva di averle partorite spiritualmente oppure le chiamava predilette e in determinati casi anche sposine di Gesù Far parte dei gruppi di preghiera è una grazia di predilezione è Dio che passa per le mani di Padre Pio per la sua preghiera, per il suo cuore per dirci io ti ho scelto perché porti frutto e il tuo frutto rimanga per sempre e per vivere veramente questo frutto i gruppi di preghiera sono legatissimi all'Eucaristia che non era solo il centro spirituale di Padre Pio ma anche il luogo in cui lui manifestava più frequentemente le sue grazie il luogo in cui il Signore attraverso Padre Pio suscitava sentimenti di conversione per questo motivo i gruppi di preghiera incentrano la loro spiritualità sulla celebrazione eucaristica e sulla adorazione di Gesù sacramentato in questo modo vivono il loro essere dono per la Chiesa infatti come in ogni comunità ci sono dei carismi ad esempio c'è il carisma in una parrocchia di fare catechismo, di assistere i poveri o altri tipi di carismi nelle nostre comunità i gruppi di preghiera si distinguono per il carisma della preghiera perché fanno dono della preghiera alla loro comunità Padre Pio è sempre vivo in mezzo a loro nel ricordo, nelle testimonianze, nelle catechesi ma dobbiamo dire che il vero collante dei gruppi di preghiera è la Madonna e non lo dico così per sentimenti per avere un'espressione retorica oppure per fare il mieloso ma veramente nei gruppi di preghiera il rosario è la preghiera dei figli è la preghiera nella quale ciascuno si mette si apre alla Vergine Maria alle sue inaspettate ispirazioni l'eredità che i gruppi hanno ricevuto è quella di continuare non solo il carisma della preghiera di Padre Pio ma anche quello della sua presenza accanto ai fratelli ammalati con un legame del tutto particolare con la sua opera più bella la casa sollievo della sofferenza faccio mio in questo momento il saluto di tanti gruppi che ci stanno seguendo e un po' di tutti quanti i gruppi di preghiera del mondo che sono spiritualmente con noi in mezzo a noi la loro preghiera e la loro carità siano una benedizione per tutti pace e bene a tutti